e rieccoci qui ragazze ragazzi su gear statics l'episodio scorso abbiamo scoperto alla fine quello che un pochino sapevamo già almeno chi ha seguito la serie o ha giocato i primi capitoli di gears of war cioè che effettivamente sì gli umani hanno influito sulla sull'evoluzione diciamo delle locuste tipo i siri che è un ibrido tra umano e locusta però come avevo pensato anche se il gioco non l'ha detto ma le locuste c'erano già prima magari erano leggermente diverse non lo so e disorganizzate poi vivano nel sottosuolo quindi a questo l'ho aggiunto io diciamo però in ogni caso abbiamo avuto conferma che si diceva la verità e contattando prescott e dandogli la nostra posizione anche se in realtà gabe non gli ha dato proprio la posizione esatta spostato di qualche chilometro probabilmente presco voleva metterci a tacere con il martello dell'alba e quindi avendogli dato una posizione non proprio esatta abbiamo solo visto il raggio del martello ma fortunatamente non ci ha colpito adesso io avevo già dato no con voi no io privatamente un'occhiata qua le prossime missioni sono tutte missioni secondarie ecco io magari avrei introdotto un attimino più di varietà per quanto riguarda le missioni secondarie perché la prima dice intercettazione di comunicazioni cog fanno pensare che gli locuste abbiano catturato diversi ghilas nell'area salvali dai bozzoli e tortura dei vermi prima che sopraggiunga a loro fine quindi un'altra missione di salvataggio poi questa dopo aver parlato con i suoi uomini mica il ha consigliato un sito promettente dove il convoglio potrebbe trovare nuove provviste prende il controllo dell'area e porta a casa tutto il carico utile ok ovviamente perché questa forse l'avremo già assi e quella dei rifornimenti ovviamente ricordo forse il simbolo già fatta ovviamente questa invece sembra che diverse casse di equipaggiamento siano rimaste abbandonate nelle vicinanze potrebbe potrebbe trattarsi di una trappola dei nemacid ma vale la pena rischiare recupera attrezzature sopravi via gli assalti e le locuste ok anche questo è già fatto ovviamente nonostante i nostri sforzi ucon continua a mantenere linee di rifornimento di emulsion in tutta la regione intercetta la spedizione e distruggi l'emulsion prima che ucon lo usi per far avanzare i suoi esperimenti anche questo cioè la missione si di sabotaggio dei salvatoi emulsion ecco io magari dobbiamo giocarne 3 su 4 a scelta io quella di salvatà a questo punto io vado per non tanto i premi che per carità sono importanti ma per per gusti praticamente perché quella di salvataggio non la voglio fare mi sono un po stufato per quanto riguarda le missioni di salvataggio facciamo le altre forza alla fine ecco dopo un po queste diventano almeno per me un po pesanti da dover dover fare sempre quelle aspetta partiamo da questa dai numero massimo unità 2 e magari ce ne prendiamo 3 si facciamo un eroe più 2 più 2 possiamo fare quindi magari potremmo è perché ci serve altra gente ovviamente che se no non ce la facciamo vabbè provvederemo per il momento facciamo queste unità ottengono un bonus pari a più 30 per cento ai danni inflitto in questo caso ci dà un vantaggio vabbè va bene allora scegliamo magari gabe e numero massimo 2 ok 2 2 gabe e marcella magari si dai gabe e marcella oppure facciamo no facciamo aspetta facciamo michaila magari e marcella uno da lontano e l'altro da vicino dai ok per combattere ci servono nuovi rifornimenti trinceratevi vicino alle casse e prendete tutto ciò che ci serve potrei visto che i punti di controllo possono anche non essere presi in contemporanea potrei schierarmi un unico punto prima poi va dall'altra quando siamo a posto dall'altra parte e andiamo avanti così almeno non so adesso vediamo dai allora vediamo un po' ecco era un bel posto per il cecchinaggio lì in alto vabbè separiamoci dai vediamo un po' come va c'è qualcuno mettiamoci di vedetta va a caso con marcella andiamo di qua andiamo allora andiamo qui e la cassa mettiamoci di vedetta va vedetta attivata non so se prenderla e andiamo andiamo qui dai forza trinceratevi c'è almeno un punto ok ok allora vediamo di pistola ah solo lui mira questo no qui ci avviciniamo mettiamoci qua 30% milo la pistola non muore però non muore e lei cos'è che aveva col fucile muore però è vicino se no rischiamo dai perfetto adesso facciamo colpo vediamo perché ho voluto rischiare qua per ora siamo anche a posto ricevuto io metterei guarda metti una mina qua e poi metti così occhi aperti ti ha mancato urca eh no le casse non le prendo è troppo rischioso prendiamo rifornimenti e stop ancora cinque tune da una parte e cinque anche dall'altro munizioni scarse facciamo mano lesta ok sono a secco ok così impari e facciamo così ok e poi ci mettiamo di vedetta ottimo lavoro così da qui non passa niente qui da una parte c'è lui dall'altra stanno arrivando mettiamoci così e ci mettiamo così occhi aperti è morto abbattuti ok perfetto interrotto ok ok andrà bene adesso continuiamo a 65 per 32 per cento proviamo prima il 32 ok ok poi facciamo mano lesta ok mettimi di vedetta mettiti di vedetta così ok ok e di qua c'è lui e il turno dopo sicuramente mi allontaniamoci un attimo lanciamo una granata e facciamo fuori lui e stiamo di vedetta così che abbiamo le spalle coperte dal lampione ah ha cambiato pensa a te quasi fatto finiamo il lavoro tre turni sì però siamo praticamente alla merce di questo le granate ne escano la vedetta guarda lui si deve avvicinare un po' per prendermi io proverei a mettermi di vedetta su di lui così ecco sto ascoltando e anche con marcella e se faccio il doppio colpo si sono praticamente mettiamoci di vedetta così di vedetta ha resistito perfetto è morto non male mi ha preso mi ha preso mi ha reso aia abbiamo resistito dai qua ne arrivano altri allora aspetta attaccate attaccate questi vermi ok in piedi lei mi deve aspetta un attimo quello è morente quindi possiamo lasciarlo lì 10% perché è barricato comunque è lì stai di vedetta così per forza qui io direi di usare una granata però posso solo prenderne aspetta potrei devo anche ricaricare lanciamo una granata su di lui ah ho attivato la vedetta ma non mi ha preso sono barricato allora sto qua ah no sto qua niente perché guarda lì dovrei allont... ah aspetta un attimo prendi prendi l'arco torque colpo ad alta potenza e colpo a bassa potenza però colpisce solo lui questo no diventiamo invisibile ti stanno avvicinando dritto in trappola ok ok può prendere lui è quasi però prima deve ricaricare ricarico potremmo fare mano lesta ok così ricarica uno è sistemato e dopo di che ahah mettiamoci così lei potrebbe stare anche invisibile lasciarli passare quando passano colpirli eh vedi ok sono compiuta vabbè va bene pensavo di no ma questo tipo di missione secondaria mi sorprende sempre tutte le volte vabbè va bene va bene va bene non c'è problema ah caricatore esteso eccellente 30 danni più una munizione sì va bene va bene passiamo pure alla prossima missione ok vediamo ah è per seed volendo adesso a questo ah sì no lasciamo lì questo ok passiamo alla prossima l'usabilità ricarica cinque volte o meno le tue unità non ottengono azioni bonus dalle esecuzioni ah sembra che diverse casse equipaggiamento siano rimaste abbandonate ah ecco la coinema sì sì facciamola chi scegliamo posso portarne quattro porto un eroe tipo seed e magari stiamo su tre se sto su tre sì la missione dopo posso fare altrettanto allora portiamo tyron e magari vernon eh sì sì ok tutti hanno le granate perfetto volete una buona notizia abbiamo rintracciato dell'equipaggiamento la cattiva notizia è che i vermi vogliono bombardare la zona prendete quelle casse ma siate molto veloci mettete al sicuro quelle casse e tenetevi pronti agli attacchi ok allora perché abbiamo un malus ah già noi ottengono punti azione dall'esecuzione di locuste va bene quante dobbiamo prendere tre ma se riusciamo a prenderne prenderle tutte sarebbe meglio eccolo qua il punto di estrazione va bene allora seed mi prende questa che cosa ci sarà qui dentro ok tyron 2 3 2 eh no 2 va bene andiamo avanti ok sono dei nemici non mi sembra preparatevi agli stronzi eccoli ok i nemici si avvicinano pronto adesso devo andare di qua ah di qui si scende ok eh uno di tre eh mi devo spostare aspetta vediamo ah ecco 62 62 proviamo ah l'ha preso ma non bene speravo esplodesse sarebbe stato bello vediamo 72 eh però se questo esplode esplode anche questo e beh che becca lui eh però eh dai fa niente spero lo prenda ah no ok lavoro pulito ok però mi devo spostare mi sposto ehi adesso io andrei qua pistola scusa vai così scusa scusa si è colpito da solo e si chiede pure scusa da solo allora stiamo così zona di uccisione stabilita ok e con seed mi muovo faccio così facciamo così occhi aperti occhi aperti beh occhio mi vedo oh la la uh lui non l'avevo visto visto allora era ora dannazione tiralo su ti sono debitore ok ok adesso mi devo spostare dov'è l'area ah qui eh a rapporto lui ha 4 10% 10% così entro nel suo raggio eh ma 10% è poco qui sono dentro il suo raggio basta poco per entrare dentro il suo raggio devo lanciare una granata forza patata bollente faccia di merda per forza adesso eh cavolo devo usare due azioni per evitare la sua vedetta se no ne usavo solo una cavacca faccia io facciamo così no colpo disattivante ma porca vacca l'ha mancato allora allora chi è che ha più vita dei due lui per forza sì dai abbiamo tu stai qua pronto eh tyron vai qua però eh perché ha usato un'azione vabbè stai qua per rianimare il compagno i fermi si muovono i fermi mai c'era con lui ok adesso andrà bene porca aspetta due su tre vai e mo spara colpo critico ordini e l'abbiamo interrotto il nostro cecchino mh ricevuto vai qui spara olè è volato ricevuto seed prendi che cosa ci sarà qui dentro e vai qua presto stanno arrivando andiamo aspetta e mizze la cassa è qui è qui la cassa e mizze si si la può prendere però poi se no possiamo prenderla dopo ti ricevo e mi sa che loro non ce non ce la fanno eh dovevo spostarmi in qua anche prima arrivano massimo due arriva massimo fino qua e vabbè ehi e lui è di poco merda ma proprio di poco e niente e niente beh tiriamo su tutte e due a uno è sopravvissuto le casse si distruggono pensavo allora niente avanziamo avanziamo quindi tyron e tira su lui non quando ci sono io ok eh te pareva ma scusa tecnicamente se io sono qua sotto non mi può prendere c'è il tetto però vediamo aspetta adesso vediamo 3 eh direi qua 3 su 4 non ha le granate seed purtroppo dai si prendiamo questa ok si c'è quella cassa opzionale ma non so se riesco a prenderla eh se aveva la granata era meglio però 41% aspetta no aspetta no dai prendiamo lui eh accidenti mancato ok almeno si è allontanato adesso nessuno ancora una volta nessuno dei due mi sa vediamo no lui si ok allora lui lo sposto qua oppure qui però così è esposto e niente lo lo sposto qui dai lui pronto e tyron io provo a metterlo tipo qua però se non lo uccide il bombardamento lo uccidono loro purtroppo e ma tanto vabbè che tanto comunque non no facciamo così guarda due le granate si allora lo spostiamo di uno e facciamo così e buonanotte ecco granata si è visto in no guardalo caracca tutti a terra caracca ci voleva ci voleva cazzarola allora aspetta eh non so se ce la facciamo eh a sto giro lui si deve non mi arrendo tanto facilmente a rialzare dovete aiutarmi eh però se ne pentiranno mi sa che il turno dopo vanno ancora giù adesso vediamo ricevuto eh sono tanti aspetta pronto mi sa che lui muore definitivamente beh ah ok fammi vedere no posso provare eh ma no vedi l'unico che si salva al massimo è seed che si può mettere qua però poi i ticker si muovono ah vabbè dai ho sentito ordini forza guarda tu no tu vai qua sotto adesso voglio proprio vedere scusa eh qua c'è il tetto e questo qua mi sa lui verno mi sa che forse ci lascia adesso vediamo non può neanche sparare nessuno eh no ma pensa te eeeh boh no no eh ma dove lo metto tanto un posto vale l'altro forte e chiaro mettiamolo qui andiamo che stronzetti eh eh lo sapevo che incredibile non è morto aspetta prendiamoli a calci in culo in attesa in che non me l'aspettavo ah guarda cosa facciamo eh ah cavolo andrei fuori squadra aspetta cos'è state preparando un panino rianimatemi rianimatemi si lo rianimerei volentieri ma si eh disattive aspetta due su tre il fatto è che entrambi lo tengono sotto tiro e poi qua son dentro l'area son rimasto troppo indietro eh fammi pensare la rianimazione lui ci arriva ci arriva il caverno eh la granata non arriva e lì c'è sempre un ticker eh quindi ti ricevo aspetta ti serve un medico a parte che lui legate le ha già usate c'è un bersaglio valido colpo disattivante eh uffa pronto non so come venirne a capo facciamo così dai lo senti granata non muore neanche tra l'altro granata poi a rapporto vediamo ma ok beh così va meglio oh ci sono incredibile e seed è l'unico che forse si salva aspetta aspetta fino ah vedi ah però qua mi passa in mezzo no devi andarmi di qua che sta da mi fai qua due su tre tre su tre due su tre e niente mi ha interrotto no aspetta mi ha interrotto però posso muovermi ancora due su tre due su tre ok 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 mettiti di vede mettiti di vede aspetta chi sono se la vedo molto brutta il colpo l'ha mancato sono a terra maia hai provato perdente è rotto e per la prima volta uno dei nostri è morto ok è andata malissimo un attimo perché qua la situazione è grave nel senso no dov'è ricevuto ha sei movimenti come mai ne uso si tanto ne uso tre per rianimare poi tre non ci arrivo però tre su tre tre non lo so proviamo tanto arrivo oh c'è mancato poco ma dai ma si può per un millimetro non ci arrivo vabbè è il nostro obiettivo ti ricevo e non ci arriva neanche lui infatti ho idea che devo rigiocarla attività delle locuste se mi spingi dentro cosa eh ho fallito eh si niente carica carica ultimo checkpoint a vedere per la prima volta volete una buona notizia abbiamo rintracciato dell'equipaggiamento la cattiva notizia è che i vermi vogliono bombardare la zona prendete quelle casse ma siate molto veloci vediamo dov'è sto checkpoint ma riscaldiamoci dobbiamo muoverci se vogliamo quelle casse mmm beh vediamo dai ci vediamo magari direttamente all'area di perché mi sa che devo rifarla da capo allora la situazione non è proprio rosea però mi sembra un po' meglio di prima ne ho solo uno a terra e deve rianimarlo Sid per forza ok allora Sid ci arriva presente oh alleluia bravo vediamo in attesa di ordini eh sì alla fine ho raccolto tre casse come prima non sono riuscito a prendere di più muoviamoci ricevuto così poi eh già così ok e dai che ce la facciamo e sopravvivono tutti dai basta ok meno male ho dovuto rifare da capo per forza per forza vabbè meno male si può ritentare dai vita passiva vantaggio adesso vediamo apriamo tutto eh ma c'è anche da dire che come ho detto poco fa mi stanno pesando davvero queste missioni secondarie sempre uguali cioè mi stava interessando di più appunto la parte della storia però devi per forza farle ok apri tutto un po' di roba un po' di roba eccellente vediamo vabbè che alla fine non possiamo potenziare tutti effettivamente va a vedere adesso noi abbiamo aspetta noi abbiamo questo abbiamo blitz è vero blitz eh possiamo quando un'unità non spara per un turno ha una probabilità pari al 50% di ottenere un'azione inizio del turno successivo quindi una volta su due ha un'azione in più eh Gabe direi che va bene poi questi ma non so se potenziarle o meno adesso ha questo ma si dai mettiamogli la precisione e poi abbiamo abbiamo questo è un aspetta è un potenziamento per ah ok no dov'è aspetta noi abbiamo ancora la cosa base qua aspetta un attimo mettiamogli questo eh si perché alla fine come ho detto mi occupo più che altro degli eroi le truppe a parte Marcella gli altri insomma abbiamo questo ok no aspetta abbiamo ok cosa manca qua più danni va bene si e no per quanto riguarda lei cos'è che ha questo il raggio di esplosione delle granate l'unità aumenta di 15% ah potrei eh poi lo darò a Marcella forse adesso vediamo vabbè no dai stiamo così stiamo così cos'è che manca ha un potenziamento per il cecchino ma sono in viaggio perciò non posso ah no questo posso farlo che è che ha salito di livello lui ah e stavo ok prendiamo questo e e strage cos'è quando uccide un nemico con un colpo critico un'unità una probabilità appare al 25% e ottenere due azioni vai e Tyron ah prendiamo questo trinceramento e colpo esplosivo livello 3 ok perfetto dai missioni facciamoci l'ultima cioè questa ehm i Geasson subiscono danni nel tuo turno la nuve velenosa dei discepoli infligge più 300 danni nonostante i nostri sforzi Yukon continua a mantenere linee di rifornimento di emulsion in tutta la regione intercetto una spedizione e distruggi l'emulsion va bene con gli ultimi rimanenti sono Gabe Melanie e Miranda ok quando i vermi trafficano con l'emulsion non sono non sono mai tranquillo distruggete le riserve e raggiungete in fretta il punto di estrazione forse prima magari dovevo recutare qualcuno in più cioè tipo anziché 3-4 vabbè ma fa niente dai come ho detto ste missioni non so diciamo diciamo possiamo possiamo questa è una guardia tra l'altro che non muore però gli facciamoli male ok mettiti così e ci mettiamo così un po' uguale direi magari un po' più spostato non li lascerò passare ripararsi all'attacco nemico in vista ok un verme è andato ok altri facciamola finita allora 10% 19% uguale se non peggio tutto ok 33% proviamo questo riproviamo ok tanto avvicinare non non mi posso avvicinare quindi stiamo di vedetta magari di vedetta eh già anche con loro copriamo tutta la zona così occhi aperti eh andiamo pessima mossa verme ok 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 vediamo possiamo sì colpo esplosivo ma intorno non è che ha chissà chi facciamo trinceramento facciamogliela vedere aumenta la precisione dunque 44 51% eh non mai ha mento troppo deciso sì oh morto morto proviamo a prendere lui colpo di striscio in attesa 52% vai 8 un po' di striscio 13% è pochissimo diamo di pistola ok ancora devo ricaricare subito rendiamoli a calcio in culo si è avvicinato pronto proviamo a farlo lo stesso lo attiriamo esatto attiriamo il fuoco lui non mi ha neanche preso mi ha preso poco ok però ho ho avanguardia in attesa perché ha la nube che fa molto male ok io direi che possiamo anche muoverci no nessun problema presente ah vedi c'è qualcun altro la allora facciamo così mettiamoci di vedetta così stabilisco un perimetro un po' esposti ma fa niente ok questi sono morti infatti lasciamo che muoio andassoli va andate mi sposto mettiamoci qui 40% proviamo no e dai presente no mi deve ricaricare combattere vai ok abbattuti muoviamoci avanti forse non c'è più nessuno diamogli una bella asfoltita non mi sembra ci sia qualcun altro ricarica ok qua ci scappa una medaglia ok non ci non ci arriviamo arriviamo il turno dopo vai in avvicinamento chi è il prossimo ok e apriamo il cancello ok allora no ah lui è ancora un'azione e allora oh mettiti qua sono pronta il movimento protetto mhm allora accoglimi la cassa e metti ah vabbè metti qua si dai va bene adesso qua che era quella ah qua qua c'è una cassa e qua ce n'è un'altra arrivo tutto ok ok Gabe può già prendere qualcuno ma è lontano mettiti di vedetta va occhi aperti mantenete la posizione gente pessima mossa verme ok mancato mancato è ora di andare e di colpire duramente ma che bel gruppetto qua aspetta eh già eh ma che che aveva il colpo esplosivo lei però deve ammazzarlo il tipo eh 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 10% direi che facciamo trinceramento ok più precisione vediamo un po' sempre 10% è uguale con la pistola 40 eh no devo avvicinare molto di più tipo qua per lanciare la granata però passiamo in mezzo aspetta chi è che lui forse vediamo mi sto arrugginendo non non l'abbiamo per niente allora andiamo avanti così ancora quasi a secco ricevuto ii ii da 6% 38 oh alleluia che se però adesso è no qui vai a uno aspetta Gabe ok vabbè uno qua e lanciamo oh lanciamo la granata aspetta così direi eh becchiamone 6-3 dai questi aspetta così fuoco con le polveri nemico eliminato nemico mancato allora è ora di annientare qualche verme guardano la scala ma io non prendo la scala prendo l'altra scala se posso dobbiamo andare a prendere anche questa muoviamoci di qua muoviamoci di qua e Gabe guardami la scala scansione in corso mantenete la posizione gente attenzione mo spara ah questo scende di lì eh via la sicura allora non ci arrivi 60% direi li prendo infatti no ma infatti oh bene l'altra fammi una bella esecuzione va e mettiti così stabilisco un perimetro adesso io quasi quasi vado su aspetta però lì c'è un cecchino effettivamente eh no devo guardarmi dietro 41% ok mettiti di vedetta così vediamo cosa fa e quasi quasi questo è un cecchino mi mira vai così mettiti di vedetta eh di striscio l'ho preso ok ok forse mi ha preso eh non ne sono sicuro però ricevuto ricevuto altre scorte ok è lontano fai così va occhi aperti ok lei è molto al limite vai eh l'abbiamo abbiamo sbloccato la situazione quindi ecco uno in meno perfetto adesso andrei qua sopra volentieri ma no Gabe mi guarda di là stabilisco una zona di uccisione eh lei ovunque la metto porca vacca oh qua eh però questo vedere che poi torna su vabbè rischiamo dai hai visto però ho resistito bene dai va bene abbiamo resistito bene nonostante i danni porca vacca c'è il masso davanti aspetta aspetta ma io posso con lei adesso che ci penso no ma sì che ma scusa eh perché è in copertura eh 10% però cioè se io mi metto ci sono qui ah perfetto arrivo ricevuto ok un verme è andato adesso Gabe va qua sto ascoltando ok e lei mi si sposta qui è rimasto solo lui interessante ci arriverei alla cassa però passo in mezzo alla sua area a vedere sì ci arrivo ecco prendi ecco beh prendermi la cassa va potrebbe essere qualcosa di buono ok no allora ti sposti affermativo così e facciamo così e Gabe non ci arriva Gabe aspetta se no Gabe mi va di qua dai e ora che intenzioni ha allora tocca a noi nessun problema ci spostiamo così 99% ok ok possiamo piazzare sì a posto ok ok sì non ho completato vabbè l'obiettivo bonus pazienza ok ok nessuno si è potenziato riscattiamo apri tutto ok vediamo auto auto riparazione abilità passiva se ha subito danni durante l'ultimo turno nemico in Italia recupero la monta repare si va questo ah ecco ah sì mettiamogliela sono più potenti lei ha potenziamenti aumenta il critico direi di no l'altro nostro cecchino sì glielo mettiamo a lui più critico ok poi abbiamo la canna a vantaggio eh no glielo mettiamo all'altro cecchino vantaggio ok per Marcella il tempo di ricarica dell'abilità dell'unità è ridotto di uno vai così ogni turno possiamo lanciare granate praticamente ogni due no ogni due turni ogni turno vabbè comunque quello che è qua dunque rinunciamo a due munizioni ma quando usa abilità spara l'unità ha una probabilità a parare 15% di sparare lo stesso bersaglio una volta aggiuntiva l'effetto non si attiva se l'arma non ha munizioni sufficienti vabbè sì dai mettiamo mettiamo va bene vedo che altro non ci sia possiamo andare avanti non c'è no c'è Grazie a tutti.